ciao bentornati sul canale e finalmente dopo un anno tornano gli artonauti abbiamo seguito un po gli indizi su instagram e facebook che ci davano dei suggerimenti su quello di cui si sarebbe parlato in questo nuovo album e lo apriamo insieme a voi finalmente è arrivato sapete che noi siamo appassionati degli artonauti e che ringraziamo sempre per le attenzioni che ci riservano e in questo caso lo starter pack su comprende quanti pacchetti tre pacchetti e sono disegnati anche in un modo diverso aspetta arte e scienza le invenzioni che hanno cambiato il mondo quindi andiamo a vedere anche qualcosa di diverso ci saranno sempre i nostri protagonisti qua che ci guidano in un viaggio in questo caso attraverso l'arte le scoperte sicuramente leonardo c'è sicuramente leonardo c'è probabile qui vediamo la ruota l'aratro quindi le invenzioni che hanno fatto cambiare hai visto che hanno cambiato lo stile di disegno aspetta bellissimo le piramidi quindi tutti i templi l'occhio di oro sulle piramidi qui siamo in un antico gitto bellissima sta pagina mi piace tantissimo bella aspetta che alzo un pochino di più ma l'hai visto che hanno cambiato lo stile il disegno si leggermente guarda la copertina a bellissima vero ma e c'è anche nel libro c'è nelle nell'album le olimpiadi tra parola d'ordine degli antichi greci wow la macchina i greci e qui vediamoci il nuovo stile bello mi piace mi piace molto 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 poi magari sono per questo questo l'ho studiato il sarcofago degli sposi le lingue ma è bellissimo quest'anno diciamo che non ci sono per il momento un po meno quadri nell'arte diciamo di classica dei quadri ce ne sono un po meno c'è molta più scultura vediamo mosaici vediamo ora che bello si sia arte comunque ovviamente poi arriveranno anche qui un percorso l'orologio la stampa poi vai qui siamo sicuramente in italia la prospettiva l'astronomia e qui abbiamo ricordiamo i quadri a buzza alla vista in questo affresco perugino dipinge anche se stesso riesce a trovarlo e probabilmente sarà in una o un piccolino o ci manca la figurina per capire chi è interessante la pietà il rinascimento posso dire che per adesso vi piace molto leonardo ovviamente non può mancare leonardo qui ancora leonardo l'ho capito la faccia che sembra la gioconda è vero e l'ultima cena che a milano la le carte come saranno le case adesso lo vediamo quando apriamo i primi pacchetti comunque devo dire che il lago mi sta piacendo molto qui abbiamo queste sono le fotografie quindi assi la fotografia quindi di una parte dedicata anche alla fotografia la guzzavista aiuta il vertu noti a trovare leonardo elettricità meno composite per il momento ma ce ne sono come questo qui o che non sono da unire questo qui a due munca poi abbiamo grattacieli tiene ancora sculture avevo il nostro gatto che mi sa che vuole entrare ma noi per il momento non lo facciamo entrare continuiamo con i neuroni quindi proprio tutto fino ai tempi moderni ci sono ah non era il gatto eri tu che facevi rumore complimenti ah stai già prendo i pacchetti no 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 non si può fare non si può fare andiamo avanti quindi si arriva fino all'era moderna il concetto spaziale qui abbiamo una bellissima galassia e qui chiudiamo con alcuni giochi e le cards che però andiamo a scoprire una ad una adesso nell'aprire i tre pacchetti a me piace tantissimo ti piace a te il nuovo album? si bello bene ovviamente lo porteremo alla fine quindi qui cominciamo a vedere qualche figurina beh la torre Eiffel bellissima poi non so come è girato si lo scopriamo così eh però questo è l'arco di trionfo o l'arco della pace a Milano o qualcosa è diverso questa è la cards ah ok si ma con la velocità della luce no allora Leonardo da Vinci Dodecaedro del 1498 quasi 1500 come dicevano in un film poi e poi ho visto questo è bellissimo guarda ho visto una cosa che mi piace tantissimo oh aspetta oh aspetta che cosa questo che è uno dei gargoyle di Notre Dame a Parigi bellissimo ah non l'ho mai vista qui siamo sui murales qui siamo nello spazio molto vasto ah cards e figurina pensavo doppia già subito con due pacchetti e bello u 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 we No dobbiamo fare poi un confronto con i vecchi album degli determinati ma lo finiamo questo eh 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 ma è la stessa ma non è la stessa no no è un'altra sembrano uguali ma non lo sono allora non è questo io da così lontano non capisco cosa sono è a testa in giù è un grattacero dietro le quinte ok questo è un grattacero e qui siamo nello spazio e poi l'angelo dell'annunciazione di maria finite ok oggi abbiamo poco tempo non riusciamo a aprire le altre figurine che abbiamo comprato perché non c'è molta luce non c'è molta luce stiamo andando con dei fare illuminare che devo dire che rende abbastanza bene utilizzeremo ancora questo sistema per fare le recensioni in piena notte no scherzo però quando non c'è luce in inverno e niente pronti prima la partenza andremo avanti fino alla fine come tutti gli anni e grazie agli artonauti per l'impegno a me piace veramente tanto l'album nuovo vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare se c'è la campanella per essere aggiornati su tutti i video attivare tutte le notifiche come sempre ciao ciao